Quando inizierà questa presenza? Quando inizierà ad essere reale questo progetto? È uscito il bando settimana scorsa per cui per metà febbraio sicuramente avremo dei colleghi psicologi all'interno degli istituti superiori per l'attivazione di questi centri di informazione e consulenza da quest'anno maggiormente orientati al discorso della prevenzione e delle dipendenze. Che funzione avrà lo psicologo all'interno degli istituti superiori? Allora avrà sicuramente un rapporto privilegiato con gli studenti ma anche con i docenti e il dirigente e sarà un approccio più proattivo nel senso che cercherà di entrare nel tessuto sociale della scuola, di respirare cosa respira la scuola e gli studenti e fare attività a livello di colloqui individuali o a livello di assemblee di classe. orientate alla prevenzione delle sostanze. Inoltre abbiamo pensato in questo nuovo modello di attivare delle giornate con assemblee o manifestazioni organizzate con l'aiuto degli studenti su queste tematiche, con l'aiuto anche degli educatori del SARD. e un'altra cosa sono i test antidroga che proporremo alle scuole a titolo volontario e anonimo e potranno partecipare gli studenti, i docenti e anche i dirigenti o il personale amministrativo, anche l'ente pubblico che desidera. La società non propone modelli buoni, è proprio degli ultimi tempi la polemica che è uscita perché anche i messaggi che arrivano dalle canzoni che ascoltano i ragazzi, dai video, dai social che frequentano quotidianamente, arrivano messaggi abbastanza disarmanti. L'ultimo la canzone che sarà presentata a Sanremo. Speriamo che non venga presentata, non la cito neanche perché mi vuole dare pubblicità, però decisamente canzoni rap o trap con questi contenuti dove c'è violenza decisamente fomentano questo linguaggio di haters che è già diffuso in rete e di certo non segnala valori e non è un messaggio educativo. Grazie a tutti.